O guardi verso il gruppo, chi può rimanere perché serve magari per le prove, oppure valuti chi ti ha fatto qualcosa o chi ti è indifferente, tipo io se dovevo votare Carlo lo votavo per una questione di pensiero di gruppo, Sonia non l'avrei votata perché comunque non riesco tanto a regare con lei, comunque ci sono delle cose che come ho detto già con lei faccio fatica a capirla e ho comunque notato che Carlo, quanto bene gli voglia, verso il sabato e domenica fa sempre questi flash come ha fatto la prima volta, la prima settimana che ci ha messi contro Sonia, Poi dopo lunedì noi abbiamo vinto le prove immunità quindi non è andato in nomination, adesso che era convinto di poterci andare arriva qua il sabato e spara, comincia a sparare sulla Sonia.